Un defibrillatore portatile al Tribunale di Arezzo. Si tratta di una donazione effettuata da parte del Rotary Club Arezzo dell'Innerwill assieme all'Ordine degli Avvocati e all'Ordine degli Infermieri di Arezzo. Quest'anno di Covid il Rotary è stato molto sensibile per quanto riguarda i service in favore della popolazione, in particolare della popolazione a retina, sia per quanto riguarda purtroppo persone in necessità, sia per fornire materiale elettromedicale, sia all'ospedale, in questo caso al Tribunale, perché salvare la vita dei nostri amici è sempre una cosa gratificante. Quanto è importante uno strumento di questo tipo e quanto è importante anche la formazione? Sì, è importantissimo perché stiamo parlando di una manovra salvavita in pochissimi secondi, pertanto è bene avere sul posto personale formato, infatti l'Ordine degli Infermieri insieme al Centro Etrusco di Formazione metterà in campo un corso di formazione per 16 tra dipendenti del Tribunale, Avvocati e Magistrati, in modo tale da poter rendere sicuro questo luogo di Arezzo molto caro.